Energia, che bella parola. L'amore accende energia. L'amicizia accende energia. Il lavoro accende energia. Il pensiero dell'avvenire accende energia. Lo sport accende energia. Antenore, più energia per il futuro. Come vi avevo anticipato qualche settimana fa, allarghiamo sempre più gli argomenti qui al vaso di Pandora. Non c'è solo l'economia, non c'è solo la politica. Nella consapevolezza quotidiana dobbiamo metterci anche noi, l'essere umano, che vive di emozioni e di pulsioni primariamente. Do il benvenuto, ospite con noi, graditissimo oggi, il dottor Massimo Castellani. Buongiorno. Consulente sessuologo della relazione intimo-affettiva e autore di un libro sull'intimità della coppia di prossima uscita. Magari ne parleremo a fine puntata. Nelle epoche più recenti possiamo fissare dei momenti significativi sull'evoluzione della sessualità? Sì, allora, innanzitutto c'è da dire che ovviamente la sessualità segue l'evoluzione dell'essere umano da sempre. Quindi il mettere in risalto un periodo ben definito è importante, perché altrimenti andremo incontro a un escursus talmente ampio, talmente tutto da verificare, da sondare, che non basterebbe una trasmissione. Quindi riferendoci soprattutto a un periodo che ci riguarda più da vicino e più specificatamente dal Novecento in poi, in modo che identifichiamo già qualche cosa di ben... Che è vicino a noi, quindi più direttamente rilevante, diciamo. Certo, perché altrimenti veramente non finiremo mai, gli argomenti sono tanti. Possiamo già far capire innanzitutto una cosa molto importante, che si va a parlare di una sessualità che completamente si rinnova, cambia rispetto a quello che era la sessualità che ha preceduto questo importante periodo, proprio perché incomincia ad andare verso l'uomo moderno. Non dimentichiamo che già dai primi Novecento, tipo la Belle Epoque, ci sono state delle epoche che hanno cambiato radicalmente il modo di vedere, di pensare e il progresso che avanzava. Quindi anche la sessualità ha giocato il suo ruolo in queste cose e ne ha subito ovviamente anche quelli che sono i principali, le più importanti fasi di cambiamento, perché non poteva essere disgiunta appunto dell'uomo. Basti pensare che, giusto per fare un salto e far capire la differenza, che nell'uomo primitivo, che evidentemente aveva una sua precisa sessualità, faceva l'atto fecondativo oggi, e dopo nove mesi nasceva il risultato di questo atto fecondativo. Ma non riusciva ovviamente a mettere in relazione questo, che arriva un bambino, quindi si chiedeva ma da dove viene? Perché sono passati nove mesi, non sapeva assolutamente niente e si chiedeva sono stati gli dei, era la risposta. Quindi era un atto meramente e totalmente diverso da quello che è stato poi la conoscenza che ha seguito l'essere umano negli sviluppi e quindi un salto veramente eccezionale in tutti i sensi. Poi, per esempio, nel tribù dei nativi americani ci sono stati dei gruppi che erano siglati da dei clan, che erano appunto siglati da dei totem, che erano diversi da clan all'altro, perché proprio per evitare quello che era l'incesto o per evitare tutte quelle pratiche sessuali che sarebbero state sconvenienti nell'ambito di uno stesso gruppo familiare, avendo il totem, in un certo quel senso, dicevano, quindi che hanno il totem azzurro, non possono andare con quelli sotto il totem azzurro, devono andare con quelli del totem rosso, tanto per fare una differenzione. E questo non solo per evitare appunto l'incesto, ma anche tutte quelle che erano le derivazioni da questa pratica, che ovviamente era da scongiurare. Quindi proprio passaggi di epoca in epoca, di popolo in popolo, di usanze e costumi socio-culturali, che hanno poi portato, tornando adesso di fretta all'Italia, a quello che è stato l'ultimo secolo, che diremmo che nei nostri confronti ha proprio siglato un insieme di cambiamenti importanti. Io li definirei micro cambiamenti e macro cambiamenti. Perché? Perché in quest'ultimo secolo appunto ci sono tre o quattro date, proprio date precise, o quantomeno eventi particolari, che hanno fatto uno step totalmente differenziante nei confronti di ciò che aveva preceduto. Sono stato quasi uno spartiacque. Esatto, uno spartiacque. Mentre tante altre argomentazioni, diciamo che parlare di costumi sessuali di un popolo come l'Italia o comunque dell'Europa, che era appunto rispetto ad altre parti del mondo la più avanzata anche da un punto di vista culturale, significa anche indagare quello che è stato, bisogna dirlo, il ruolo importante della Chiesa nello sviluppo di tutto quello che è avvenuto. Non dimentichiamo che la Chiesa in Italia è stata sempre molto presente con tutti i suoi dogmi come nel resto d'Europa. Esiste da duemila anni, quindi evidentemente degli effetti profondi li ha prodotti. Io dico sempre se nassimo a Cuba o in Brasile, ovviamente la sessualità viene vissuta in maniera totalmente diversa, anche per molti socioculturali che hanno seguito il popolo. E quindi nel momento che diciamo questo, nel ruolo della Chiesa dobbiamo tenere presente che c'è stato più di un argomento che ha interessato fondamentalmente quello che era un accordo da prendere. Cioè, ci sono stati temi come l'aborto, temi come l'audulterio, la contraccezione, il divorzio, la masturbazione, il matrimonio, i rapporti sessuali coniugali ed extraconiugali, l'omosessualità, la pornografia, tutti questi microtemi poi in realtà hanno siglato un'epoca perché le battaglie condotte per superare o per andare avanti su certi argomenti adesso le facciamo come un escluso storico, però in realtà ognuna ha necessitato di battaglie anche, non da poco, non dimentichiamoci il periodo dell'inquisizione, tanto per fare un esempio, il cavallo del Medioevo in cui gli eretici venivano perseguiti, torturati, fino a che non avessero abbiurato alla loro idea e quindi venivano messe delle persone a rogo o comunque a morte, la caccia alle streghe, tanto per essere chiari, che erano donne avanzate rispetto al loro tempo, donne più consapevoli, donne che praticamente erano un po' evolute e venivano bruciate. Possiamo fare degli step soprattutto nella Novecento, soprattutto diciamo qui in Italia, in Occidente ma in Italia in particolare? Io direi che per andare, come dicevo prima, passare da questi che erano i piccoli step ai grandi step, io come prima cosa direi che il 1958, anno in cui la legge Merlin ha dato i suoi effetti, è il primo grande step. Perché? Perché questa legge che tra l'altro è stata presentata nel 1948, quindi è stata poi approvata dieci anni dopo, anche lì da qui si capisce con non poche battaglie a livello proprio... Dieci anni, un periodo storicamente oggi lunghissimo. Sì, infatti, e praticamente la legge Merlin che prevedeva la chiusura delle case chiuse ha dato il via a tante altre cose. Non dimentichiamo che le case chiuse in quel periodo sono state 5.000, quindi non erano poche, 5.000 case chiuse in tutta Italia. Perché case chiuse? Perché lo sappiamo erano tutte case con le serrande giù perché non si vede e se cosa accadeva dentro. Oppure case di tolleranza. Case di tolleranza perché erano tollerate dallo Stato da un punto di vista proprio di si sa che ci sono, si fa ma non si dice, diciamo, ecco la vecchia frase. E quindi questo macro step diciamo del 1958 in cui non dimentichiamo che gli italiani incominciavano, era finita la guerra, c'era tutta la ripresa economica e quindi stava iniziando il boom stava iniziando il boom di fatto e anche da sottolineare che i giovani di allora venivano tutti iniziati e uso la parola iniziati tra virgolette proprio nel bordello diciamo che era così classificato anche sulla Treccani. Quindi il dato che non sapevo 5.000 case chiuse in Italia vuol dire che evidentemente c'era, chiamiamolo, possiamo dirlo, lavoro, c'era richiesta, c'era lavoro ed erano tantissime. I comuni sono, in Italia mi pare, sono 8.000 quindi statisticamente c'era quasi una il comune diciamo non piccolo aveva la sua casa di tolleranza e difficilmente un ragazzo andava a fare diciamo l'iniziazione con una ragazza del suo stesso livello di classe sociale tipo il ragazzo borghese per il ragazzo borghese quasi tu nel 99% non era quasi possibile avere un rapporto prematrimoniale con una ragazza di pari ceto si andava a farsi iniziare in un brodo di molte volte erano i propri padri che portavano i figli al convivimento del cittesimo anno d'età addirittura ecco c'era questa poca iniziazione da padre da padre a figlio esatto e quindi diciamo che la chiusura delle leggi che poi ovviamente però ha messo le prostitute per strada perché non è che abbia creato qualcosa di alternativo ha rappresentato una diffusione di tutto quello che prima era seminascosto o meglio nascosto ma neanche tanto e ha creato appunto il mercato vero e proprio del senso c'è da notare che non è condannata la pratica della prostituzione ma gli effetti c'è chi va a prostitute e quindi l'hanno in un certo quel senso fatta passare come una cosa che c'è ma che non si vede e vanno a colpire invece coloro che sono favorevoli allo sviluppo della prostituzione è stata decriminalizzata ma nel contempo non chi viene trovato in fragrante e quindi ogni tanto succede infatti che succeda qualche problema di fanno delle realtà diciamo dopo il 58 che comunque ha segnato un fattore importante di cambiamento io andrei dieci anni dopo al famigerato famoso 1968 anno in cui stiamo sempre parlando dei macro step cioè quelli che proprio hanno segnato una generazione le pietre miliari proprio in 1968 in cui si va verso la libertà sessuale nel senso che fino a prima appunto vigeva una certa morigeratezza un certo timore della religiosità dei costumi e quindi c'è stato questo spacco diciamo partito con questo grande processo in America poi non dimentichiamoci Woodstock tutti i grandi campi di liberazione sessuale in cui veniva inneggiato un amore libero dove c'era musica c'era le prime droglie che giravano c'era questa sessualità proprio libera e veniva appunto disgiunta quasi totalmente da quello che era l'atto amoroso quello che praticamente veniva predicato dalla chiesa perché si poteva fare l'amore solo nell'ambito del matrimonio perché c'era amore e procreazione mentre al di fuori del matrimonio amore e procreazione infatti non a caso è stato definito amore libero libero dal vincolo matrimoniale totalmente e lì ovviamente le persone hanno cominciato a trovare la piacevolezza della sessualità disgiunta dall'amore che però io qui farei un piccolo richiamo di attenzione perché è anche vero purtroppo che l'amore se caricato dell'emozionalità che porta con sé da un certo tipo di piacere proprio è stato anche dimostrato e un certo livello di autostima di soddisfazione mentre se noi disgiungiamo sesso da amore l'emozionalità che gioca l'80% del suo valore nel rapporto sessuale insomma si va un po' a perdere quindi diventa vorrei dire quasi una ginnastica uno sfregamento di una certa zona del corpo e una prestazione quindi sembra che a molti piaccia comunque non c'è un giusto sbagliato poi tra l'altro credo che ritorneremo sull'argomento ci sono altri momenti diciamo topici certo diciamo che oltre al discorso della contestazione si è anche avvalsa di una cosa che fatalità proprio in quegli anni stava succedendo è successo che nel 1956 un certo Gregory Pincus medico americano ha fatto la scoperta della pillola pillola anticoncezionale che effettivamente direi che a livello mondiale ha rappresentato un cambiamento totale perché perché in questo modo la donna diventava artefice e decisiva nella scelta della sua sessualità cioè se procreativa oppure no è il salto dalla sessualità definita procreativa a quella ricreativa la definizione proprio è ricreativa da noi ovviamente questi termini non si usano ma è la definizione più esatta perché le tradimensioni della sessualità sono appunto quella ludica quella procreativa e poi quella diciamo anche di conoscenza del corpo dell'altro e quindi fisiologicamente un qualche cosa che vada a farci crescere da un punto di vista alterità nei confronti di un'altra sessualità e quindi la pillola è stata veramente un qualche cosa che ha cambiato il modo di pensare il modo di fare il modo anche di relazionarsi non dimentichiamoci che oggi come oggi esistono tra l'altro argomento magari non pertinente ma i famosi friends with benefits dall'inglese sarebbero tutte quelle persone che decidono di avere delle relazioni sessuali senza emozioni senza niente di più come amici e la cosa finisce lì nel senso che non prevede nessun investimento di tipo sentimentale mentre sappiamo che la relazione con le R maiuscole vuole che la coppia sia da un punto di vista sentimentale e sessuale appagata chiarissimo e quindi ribadiamo proprio lo spartiacco è forse principale nell'epoca moderna contemporanea proprio la scoperta della pillola non solo da un punto di vista quindi fisico ma proprio come diceva giustamente ha influito in maniera decisiva sul modo di relazionarsi tra i due sensi di autogestione proprio della donna anche perché non dimentichiamo che gli anni 60 sono quelli che hanno visto anche adesso per dire una cosa proprio microscopica ma l'avvenuta della minigonna abiti succinti quindi la donna ha cominciato a gradire di mettere in mostra il suo corpo di essere guardata di essere ammirata di essere seduttiva quindi passiamo attraverso un periodo non di oscurantismo ma comunque dove tutto quello che riguardava la sessualità e la sensualità veniva in un certo quel senso tenuto in disparte rigogliosamente è stato messo possiamo in un certo senso dire che appunto l'esibizione l'utilizzo anche di abiti come si diceva succinti provocanti è stato diciamo favorito anche dall'utilizzo della pillola in questo senso diciamo che a livello psicologico la donna è sentita più libera di usare e più sicura di se stessa certamente perché prima giocava ancora al fatto che uscendo ovviamente non dimentichiamo che prima anni prima c'era stato il discorso tutto del fascismo per cui di una società molto patriarcale dove la donna era l'angelo del focolare domestico quindi c'è questo grande passaggio da donna del focolare domestico diventa donna artefice di se stessa della sua sessualità la donna del nuovo millennio è una donna totalmente nuova consapevole che cerca il suo piacere una donna che sa dove poter arrivare e che non vuole assolutamente più restare diciamo nell'ombra ma è consapevole che il suo sesso può essere molto soddisfacente molto pagante e soprattutto non più responsivo solo a quello dell'uomo perché prima così era era sì sì assolutamente e dottor Castellani è cambiata nel tempo la sessualità e il potere del sessuale femminile certamente è proprio dovuto la partenza è lì però non dobbiamo dimenticare che appunto nel momento stesso che la donna ha assunto questa capacità di autogestione ha incominciato a informarsi su cos'è l'aborto perché negli anni 30 per esempio c'erano argomenti che non si potrebbero neanche affrontare mentre per quanto riguarda per esempio anche la capacità di raggiungere l'orgasmo appunto negli anni 30 era il 30% delle donne sembravano che erano considerate frigide poi questa terminologia è sparita è rimasto praticamente la difficoltà di raggiungere l'orgasmo ma allora quando c'era poco interesse per la sessualità o non un vivere la sessualità con piacere venivano definite frigide in moltissimo termine che poi la donna frigida non esiste il problema è che appunto da quel punto in poi la donna ha incominciato a chiedersi cos'è l'orgasmo come raggiungerlo quali sono le sue parti anatomiche preposte per provare piacere come è fatta fisiologicamente anatomicamente a capire che non è più perdente nei confronti della sessualità maschile ma anzi una donna consapevole e capace di una sessualità libera e soddisfacente o meglio ancora appagante è superiore a quasi quella dell'uomo che non potrebbe certo stare dietro una donna capace di avere una sessualità che sia degna di essere chiamata come tale anche tra l'altro in considerazione del fatto che per certi versi oggi possiamo considerare quasi l'universo femminile forse addirittura più evoluto di quello maschile per certi versi sì è stato proprio lì negli anni 60 che la donna ha cominciato ad andare in macchina guidare la macchina andare al mare mettersi i bichini non dimentichiamo l'avvenuto del vino è stata nel 70 75 quindi questo cambiamento anche dei vestiti del modo di proporsi del modo andava a feste da ballo andava appunto al caffè chantan tutte queste cose che hanno siglato un'epoca che era in totale contrasto con quello che era stato prima adesso veniamo proprio alla sessualità d'oggi vediamo i tempi proprio attuali contemporanei in senso stretto ecco come possiamo definire la sessualità d'oggi allora la sessualità d'oggi innanzitutto c'è da dire che è una sessualità mi viene questo sospiro perché io sono oggi e per cui non è una sessualità che mi entusiasma nel senso che è una qualche cosa di fondato molto sulla ricerca dell'orgasmo sul godimento tipo usa-getta quindi su qualche cosa che sia non più una derivazione di una ricerca della profondità dell'altro essere umano con la quale sto che sia frutto di un'intimità profonda ma beh sì proprio c'è distrazione c'è usa-getta c'è utilizzo del corpo dell'altro per la propria soddisfazione c'è questo tempo frazionato a quel momento che poi magari non viene neanche ripetuto con la stessa persona quindi è un momento in cui c'è una sessualità che per dire la verità mi ricorda molto le profezie di Aldo Suxley non so se comunque è uno scrittore che per certi versi ha proprio parlato nei suoi libri il mondo nuovo di quello che era quello che stiamo vivendo oggi cioè una società molto legata alla sua gabbia dorata in cui c'è questa corsa all'avere e quindi anche la sessualità viene utilizzata come merce di scambio in cui io ho e qualche cosa che venga utilizzato fine a se stesso e quindi lui addirittura diceva che prevedeva un decremento demografico dovuto anche a questo e quindi mi pare che sia lo specchio a me mentre stava appunto trattando l'argomento mi è venuto quasi un parallelo è possibile che stiamo viaggiando in maniera quasi appunto parallela il fast food e il fast sex certo certo e io quando infatti parlando di mindfulness dico serva bello ci fosse anche mindful sex cioè nel senso che il fast food che altro non è che una trasposizione dello stile di vita che oggi abbiamo fa capire come anche nell'intimità anche nella sessualità venga portato lo stesso stile di vita e quindi poco tempo per ultimo si va bene però cioè anche Bauman a suo tempo parlò dell'amore liquido cioè l'amore che praticamente era qualche cosa da consumare e di fretta come tutta la vita che oggi andiamo ad affrontare siamo diciamo che è categoricamente giusta la frase in cui si dice siamo più nel fare che nell'essere non a caso abbiamo chiamato la puntata cambia l'economia cambia la società cambia la sessualità ovviamente procede in maniera inevitabilmente collegata estrettamente estrettamente con essi poi ecco tra le altre grandi grandi step di questi ultimi cento anni c'era appunto anche la legge sul divorzio legge sul divorzio che diciamo è stata un po' per tante persone la possibilità di rinnovarsi cambiare e quindi del 78 se non vado errato no del 70 e poi dopo questa c'è stata anche altre altre leggi che sono state importanti però un altro grande step che se no rischiamo di non dirlo dopo queste cose è stata l'HIV la comparsa dell'HIV che quindi ha messo la parola morte vicina alla parola amore cioè si rischiava perché cosa succedeva magari qualche marito faceva un'avventura extraconiugale e si portava a casa qualcosa che metteva a rischio anche la vita della moglie inconsapevole ovviamente quindi questa cosa ovviamente è stata questo è stato un grande step diciamo metà anni 80 sì metà anni 80 ma ce lo portiamo dietro ancora adesso nel senso che mentre prima la falciglia era dovuta alla sifilide che è stata una delle malattie trasmissibili prime diciamo conosciute dal mondo intero ma comunque non aveva fermato la frequenza alle case chiuse e poi c'è stata l'HIV che ha messo anche questo grande step perché molte persone all'inizio si cosvelavano al fatto che era più qualcosa che riguardava gli omosessuali quando invece anche gli eterosessuali più o meno quindi tutte cose che hanno portato avanti un modo diverso e quindi lì si è cominciato ad dare spazio la contraccezione e a tutto quello che ne è derivato si si mi ricordo in quel periodo metà anni 80 appunto c'è stato un momento veramente di terrore diciamo nei riguardi del sesso dei rapporti diciamo magari più o meno diciamo leciti occasionali c'era proprio era calata una coltra di terrore direi quasi terrore diciamo l'insicurezza adesso ogni cosa si andasse a fare non si sapeva il passato di quella persona ecco lì qui ed ora faceva paura mentre sarebbe auspicabile nel fare la sessualità lì qui ed ora viverla in maniera ecco ecco e questo dà proprio lo spunto per diciamo la mia domanda successiva è possibile oggi praticare un sesso lo si definisce consapevole cioè che non sia banalmente prestazionale allora questo è il punto dolente nel senso che se io dovessi fare un ambutad una sorta di statistica ma sappiamo che la statistica non soddisfa mai nessuno su certi punti di vista bisogna vedere il campione delle persone a quale si è chiesto ma diciamo che oggi come oggi la sessualità consapevole è cosa di pochi nel senso che se dovessimo fare una separazione come diciamo come uno spartiacque il 90% delle persone fanno una sessualità di tipo genitale barra prestazionale e il 10% forse auspico una sessualità matura consapevole quindi di crescita perché non dimentichiamo che la sessualità vista anche da determinate dottrine tipo il tantra il tao o di relazione orientale definiscono proprio la sessualità come via maestra per la consapevolezza e quindi per una crescita della persona stessa tra l'altro la interrompo un attimo vogliamo sfatare un tabù o diciamo un falso mito sul tantra perché viene è sempre stato identificato come una cosa puramente sessuale mentre la parola tantra che è sanscrita tra l'altro significa allargare la coscienza ecco appunto quindi non ha niente a che fare con il sesso e la sessualità in senso stretto ecco diciamo ecco che poi viene un po' da sorridere pensare sessualità consapevole perché come dicevamo prima una sessualità invece molto prestazionale cosa porta? porta l'uomo a far finta io dico far finta di essere un uomo alfa in cui deve dimostrare di essere un uomo sessualmente molto virile diciamo il maschio alfa è il lupo il capobranco in pratica il quale ha una prestazione sessuale molto ma molto efficiente e lei capisce che a questo punto il maschio stesso nel dover effettuare una prestazione sessuale molto efficiente dove ci sia un'erezione che rimane come tale un'eaculazione che non è precoce e portare avanti un discorso del genere davanti a una donna che sente questa parte dell'uomo e quindi deve in cambio donare un orgasmo sono tutti e due stressati davanti a questa cosa da fare da dimostrare e dove c'è stress non ci potrà mai essere una sessualità lenta consapevole e veramente dell'essere e non del fare la società moderna tra l'altro il sistema diciamo economico moderno oggi ci vuole anche stressati tra l'altro quindi in questo senso questo era l'unico momento che ci restava per essere un po' tranquilli goderci questo momento che è un regalo diciamo anche divino perché la sessualità è stata inventata non da noi ma con l'essere umano e hanno inventato proprio la cosa più bella che potessero fare e noi siamo riusciti a renderla qualche cosa di usegetta di livello consumistico molto molto forte certo ci portiamo tutte le problematiche tutto lo stress che proprio questo tipo di economia e di società comporta ce lo portiamo proprio anche nella paro paro e forse da questo punto di vista qui ed è un altro grande step che non va sottodimensionato né dimenticato la pillola blu cioè la scoperta degli agra appunto che andava ad aiutare anche tutti quei maschi che soffrendo di ansia da prestazione o comunque da stress di quello che poteva essere il setting amoroso il fatto di avere un presidio farmacologico che desse una mano a fare bella figura visto che siamo in tema non è cosa da poco il problema è che viene usato anche da persone che non ne hanno bisogno io so che anche molti giovani anche di 25-30 anni lo usano per fare una figura ancora più bella il problema è che poi diventa una sorta di dipendenza e questa sicurezza perché rimanga tale lo prenderanno sempre con annessi e connessi mentre invece se non ce n'è di bisogno io sono molto contrario che le persone vadano in una sessualità di questo tipo le possibilità di cambiare la propria sessualità in meglio sono tante e non dipendono solo da una pillola che si può utilizzare sì ma nei casi dove sia veramente necessaria chiarissimo possiamo in qualche modo prevedere come sarà la sessualità nel futuro Dottor Pazzesani allora la sessualità del futuro diciamo che abbiamo già qualcosina che ci indica come possa essere perché a fronte di quella che è la società odierna e quindi di tutto quell'utilizzo dei social della facilità di incontrarsi delle chat degli incontri al buio anche del timore di cosa può essere e quindi qualcosa di fortemente mediatico molto più impostato sulla ricerca che non sulla scoperta un po' alla volta sullo scoprirsi un po' alla volta sull'investire sull'altra persona sarà sempre più mediatica cioè sempre più con l'utilizzo di diciamo questi incontri che favoriscono sì l'incontro ma non favoriscono la conoscenza dell'altra persona quindi con la possibilità molto concreta di trovarsi spesso e volentieri in situazioni bidone scusate il termine ma è questo quello che lo definisce e poi la società del futuro da come viene vista visto il grande apporto della tecnologia che oggi c'è non dimentichiamo che ci sono già le real doll che sono delle bambole che hanno veramente raggiunto quasi una perfezione umanoide se mi permette che in molte parti del mondo vengono già utilizzate costano più di 3-4 mila euro ecco dalle real doll non si può altro che andare avanti già si parla dei robot del futuro che a livello sessuale saranno dei veri partner e si prevede che nel 2050 vedo anche proprio una data nel 2050 sarà un grande utilizzo di queste figure robotiche che saranno capaci di interagire ma nel frattempo saranno state inventate talmente tante cose tipo la possibilità di sentire anche il tatto con quelle forme che si usano adesso su internet quindi non solo la visualizzazione di un filmato ma anche la possibilità di accedere alle emozioni e alle sensazioni che praticamente la sessualità come la conosciamo noi io penso un po' che la nostra generazione sia una delle ultime della sessualità alla vecchia maniera stia andando un po' alla volta purtroppo questo conferma che anche da un punto di vista proprio della sfera diciamo di relazione sessuale quindi andremo verso una realtà robotica tra l'altro confermando quello che proprio quanto ha esposto recentemente una nostra ospite la dottoressa Giulia Bovassi che tra l'altro avremo ospite nuovamente in trasmissione a breve dove appunto diceva che le figure degli umanoidi saranno sempre più presenti quindi anche proprio nella sfera sessuale poi non dimentichiamo che oggi come oggi siamo in una società ipersessualizzata dove praticamente i cartelloni pubblicitari la pornografia che gira sia su whatsapp che anche su internet e quant'altro pare che ci sono dei dati che sono neanche da non vorrei spaventare nessuno neanche da riportare perché veramente oramai la pornografia è dilagata non dimentichiamo che prima rimano alla mafia poi quando è stata legalizzata dagli anni 70 in poi ovviamente è diventata di uso comune utilizzo comune e molte persone ne fanno un uso spropositato questo comporta poi una necessità di emozioni sempre più forti di situazioni sempre più alternative barra trasgressive per cui in questo periodo gli locali pescambisti sono molto fiorenti e quindi la persona quando si ritrova nella sessualità tra virgolette normale di casa propria dove è difficile passare dalla quotidianità all'erottismo già di per sé e poi con tutte le emozioni che uno si è visto a livello proprio visivo e che si aspetta di replicare nell'ambito della propria alcova più volte quindi ritorniamo in questo caso anche confermato appunto dal proliferare di queste realtà appunto di scambio di copie quindi il concetto ribadisce ancora da forza proprio al concetto che diceva prima di una sessualità de-responsabilizzata diciamo da fast fast consumer fast food fast consumer sì io proprio da questo punto di vista ripeto forse siamo gli ultimi altri due o tre generazioni poi io non so quello che ci sarà so solo che il 2050 viene visto come un altro step di grande cambiamento comunque c'era anche molta depressione ci sono anche voglia di molta solitudine perché è chiaro che questo è il frutto diretto chiaramente noi viviamo di emozioni e quindi chiaramente siamo degli esseri sociali e quindi in questo conquisto comunque dovremmo confrontarci e fare i conti ci ritroveremo allo specchio c'era un bel film tempo fa mi pare si chiamasse Air cioè lei in cui c'era questa persona che si confrontava tutti i giorni con questa realtà mediatica che però in realtà era virtuale inesistente e da lì si capisce qual è il futuro dell'intelligenza artificiale che sarà vicariante di tutto quello che è quello che adesso invece non è assolutamente virtuale e non dimentichiamo che tutto questo va verso la coseificazione proprio coseificazione in quanto cosa della sessualità coseificazione esatto e questo è un altro termine che purtroppo identifica la tipologia diciamo che in questo momento c'è stata anche un po' un'accettazione alternativa perché non dimentichiamo che anche le valigie rosse che sono quelle riunioni che fanno nelle varie case per i vari step gadget di tipo sessuale in cui le donne si ritrovano e invitano le amiche ha portato una certa conoscenza maggiore ci sono anche altre dite che lo fanno non solo questa e questo comunque è stato favorevole a far un po' girare pagina in certe famiglie in una sessualità più di tipo alternativo si sono comprati dei gadget qualche cosa dei lubrificanti che hanno aiutato per un certo periodo e stanno ancora aiutando la sessualità ma ribedisco secondo me siamo un po' le ultime generazioni che usufruiscono di questa fortuna che possiamo avere anche di toccare con mano qualcosa che porti delle novità certo non solo in informarsi ma anche poter avere accesso a informazioni che ti portano addirittura a casa ecco quali sono le normative che hanno modificato in qualche modo l'andamento delle scelte sessuali e quanto tra l'altro hanno modificato questo andamento beh allora come abbiamo detto prima le normative in realtà sono le leggi sull'aborto che peraltro poi se ci pensiamo oggi come oggi ha un valore relativo perché da quando è stata fatta la pillola del giorno dopo la RU praticamente fa sì che la persona che ha il dubbio di essere rimasta incinta la possa utilizzare ha un aborto che non è più chirurgico ma medico farmacologico e quindi certe leggi che sono state importanti perché hanno segnato anche lì la possibilità di trovare delle soluzioni a situazioni anche poco risolvibili hanno portato poi con il passaggio a altre scoperte l'inutilità di certe leggi perché poi andando avanti con la società e con le scoperte è tutto un divenire dove praticamente le cose nuove però tornando sulla legge dell'aborto sul divorzio che prima teneva due persone che magari stavano insieme ma la sessualità non ne facevano più non dimentichiamo che oggi come oggi quasi il 30% dei matrimoni sono bianchi vuol dire appunto che la statistica dice il 30% una percentuale sbalorditiva quindi gente che abita sotto lo stesso tetto dorme assieme ma che ha rinunciato totalmente alla sessualità e quindi tutte leggi che favoriscono il divenire individuale della persona che praticamente in questa maniera può accedere nuovamente a rivivere delle sensazioni delle emozioni perché la vita va vissuta insomma siamo ci avviamo verso la fine della chiacchierata della nostra puntata e ho una curiosità se lei potesse rinascere in quale epoca preferirebbe incarnarsi per vivere la sessualità diciamo che preferisce bene domanda beh al di là del fatto che io sinceramente sono abbastanza contento della mia vita presente di quella che è stata la mia esperienza da un punto di vista intimo relazionale però se dovessi fare una scelta che è stimolante questa domanda credo nelle belle epoche cioè alla fine dell'ottocento primi del novecento in cui cominciavano e cosa la tira di quel periodo il fatto che c'era questa industrializzazione questo entusiasmo a livello di popolo perché negli anni dal novecento al novecento e trenta ancora non si respirava odore di guerra diciamo quindi c'era la nascita del burlesque e il cancan queste feste queste paillette questa voglia di vivere di uscire la sera Torino Slot 3 che faceva e soprattutto a Parigi mi piacerebbe nascere a Parigi in quell'epoca perché stava descrivendo appunto un contesto che richiamava molto la Francia e Parigi mi si figurava in testa la situazione oltre che all'epoca proprio perché anche quando sono nato a Parigi ho rivissuto in maniera ovviamente molto laterale queste cose qui e sentivo una certa attrazione verso quel periodo diciamo di voglia di vivere lei che è un apprezzatissimo consulente della sessualità di coppia quale diciamo se dovessimo parlare definire in un concetto qual è la sua mission? possiamo dirla in una motto in un hashtag? quello che io sì sì esatto hashtag che oggi va bene come parola sarebbe motto io credo proprio che sia tenere innamorati gli innamorati perché la cosa forse più semplice ma anche più difficile in questo momento troppe distrazioni troppe stimolazioni appunto questa società ipersessualizzata la difficoltà è far capire agli innamorati che possono re-innamorarsi e trovare motivi nuovi per stare con la stessa persona quindi tenere innamorati gli innamorati e tenere innamorato proprio come punto di riferimento per la propria crescita in modo che quando si va a fare l'amore si possa dentro di sé dire oh mi piace essere in questo posto con questa persona in questo momento a fare queste cose e da nessun'altra parte con nessun'altra persona a fare nessun'altra cosa cioè vivere un qui ed ora totalmente presente e come dicono in oriente i grandi maestri del pensiero quindi essere in un risvegliato perché quando sei completamente calato nel momento presente sei risvegliato tutto il resto è relativo tutto il resto è relativo probabilmente non entra neanche nella propria nella propria percezione esatto quando io parlo di sessualità consapevole sessualità matura dove mi piacerebbe che tanti si venissero traghettati da quel 90% di sessualità prestazionale a una sessualità consapevole questo è il passaggio io sono il ponte di queste due cose per far capire le persone che si può volendo si può fare lei ha un libro di proprio brevissima uscita come il titolo? il titolo è un top secret perché praticamente sarà un qualche cosa che è a cavallo tra un saggio e un romanzo quindi non è né un saggio né un romanzo ma qualcosa che deve far capire alle persone come l'importanza di fare l'amore bene cioè l'arte di far l'amore non la tecnica di far l'amore sia alla portata di tutti quindi io in un certo quel senso ho voluto mettere nero su bianco un libro un po' diverso da tutti quelli che parlano di sesso perché oramai ce ne sono tanti forse anche troppi che creano molte volte anche confusione per quanto riguarda le tecniche e invece far capire quanto è importante appunto vivere il momento presente con la persona che si ama e soprattutto portare tutti nella dimensione che alcuni vivono quando fanno l'amore cioè la dimensione di serietà e di condivisione quindi il titolo del libro per il momento è ancora top secret l'uscita prevista per gennaio senza altro per gennaio contiamo di averla ospite per presentare il libro nel frattempo anche a seguito di questa puntata leggeremo i commenti avremo un po' il feedback dei nostri ascoltatori per vedere il grado di interesse di coinvolgimento che crea questo argomento che come dicevo prima è nella filosofia del vaso di Pandora perché è creare consapevolezza a tutti i livelli siamo in una società ma come dicevo prima siamo prima di tutto esseri umani che in quanto tali vivono di passioni e di pulsioni ecco io mi fa un po' arrabbiare quando sento che sono state vendute non so quanti milioni di copie di certi libri tipo 50 sfumature perché sono dei libri che parlano di un certo tipo di sessualità quindi c'è questa ricerca questa volontà di sapere però sessualità di tipo alternativo BDSM quindi non stiamo nella sessualità di cui abbiamo parlato fino ad adesso consapevole lenta di condivisione e questo sarebbe un argomento che sviluppare moltissimo perché penso e sono convinto che possa interessare molto più di vicino sia molto più fattibile questo che non altre cose per qualsiasi coppia di persone che si vogliono ancora per renderci esseri umani che vivono un'esperienza terrena di tipo evoluto in tutti i sensi anche in questo ambito io ringrazio molto la ringrazio molto dottor Massimo Castellani grazie a voi l'aspetto allora per la presentazione con l'inizio dell'anno nuovo consulente sessuologo della relazione intimo affettiva grazie grazie a voi tutti buonasera si ringrazia Antenore Energia luce e gas a misura d'uomo Kashmir Company professionisti del Kashmir dal 1970 dal 1970